Devo dire che credo mai a Roxy Bar ci sia stata tanta attenzione durante un parlato e soprattutto tanto silenzio dopo, perché durante la pubblicità di solito tutti parlano, chiacchiere, invece questa volta c'è stato molto silenzio dopo le parole di Morgana. Adesso ci sono gli AFA, gli AFA hanno fatto questo nomade psichico, devo dire anche che gli AFA erano già previsti prima di Salvatores e di Morgana che venissero qui e Salvatores era previsto prima che venisse Morgana, quindi Morgana è arrivata in un momento in cui questa puntata era già tutta imperneata di quella che è l'energia o il futuro. In nomade psichico ad esempio gli AFA cantano tempo tiranno, segnali oscuri, scenari desolati, schermi in bianco e nero, mercato di mondi futuribili, voglia di disfare, occhi al cielo, il mondo avrà un tempo nomade, nomade psichico, fuggolisteria, il panico, intanto tutto intorno precipita. In esploratore cantano io credo nella salvezza del mio pianeta, io credo nell'ecologia della mia mente, io credo nella caotica armonia universale, io credo ad un segnale lanciatomi da una stella. Oppure in altri brani ad esempio c'è via satellite, satellite perso nello spazio, senza rotta, senza direttive, rifiuto rotante spaziale, rifiuto orbitale, staccato da terra, messaggi impazziti, ultime grida disperate, fievoli segnali, codici sbagliati, dati confusi, silenzio siderale. Stiamo attraversando un momento in cui oggi, ieri sul giornale c'era che hanno scoperto che c'è una vita anche su Giove possibile, basta una luna di Giove, basta bucare il ghiaccio. Stanno parlando di vita su Marte, stanno tornando a comparire gli UFO, persone in televisione si dichiarano, in fossili sempre gli AFA cantano. Quando non sarò più qui sarò la voce che senti in sogno, quando non sarò più qui sarò energia che vibra intorno, quando non sarò più qui sarò una traccia sul tuo corpo. Apparirò in altre forme, sarò come neve che non scende, c'è la neve in tutto il film nirvana, sospesi in atmosfere calde, vedrai la scia di un meteorite incaduta, sarò come un vulcano, un'altra ferita. Cerca nella sabbia i miei reperti, porta alla luce questi fossili ricordi. Sei tu che scrivi queste cose? Sì, scrivo io. Secondo me sono tutte constatazioni di quasi un ritorno a un panico da fine millennio, quasi un ritorno di un nuovo medioevo. Sta finendo un millennio, quindi ci sono questi segnali irrazionali, il ritorno del magico, il ritorno degli avvistamenti UFO, che tra l'altro non sono nuovi, perché anche nella storia, anche nelle antichità, sembra siano apparsi strani oggetti volanti. Tu guardi certe pitture o certe scritture rupestre dei maia, ci sono delle astronavi per esempio. Quindi probabilmente c'è stata un'apparizione dell'irrazionale sempre nell'uomo e questo è un momento in cui ritorna il magico, ritorna l'esoterico, ritorna la paura forse di noi stessi, perché in verità i viaggi mentali sono poi i viaggi dentro se stesso, cioè il tuo microcosmo corrisponde a una galassia, a un viaggio nello spazio. Quando Salvatore si ha parlato di Philip K. Dick ha parlato di una branca importante della fantascienza, che poi forse è più filosofia, ovvero vedere la fantascienza non più come l'avvento degli extraterrestri, ma come guardare dentro se stessi, un viaggio dentro il proprio intimo, dentro il proprio organismo. Ecco perché anche il nomadismo psichico, il poter viaggiare immaterialmente con la propria mente, se vuoi anche aiutati dalla tecnologia, perché no? Perché internet è un grande mezzo se viene usato nel modo migliore, se non diventa solamente una via di fuga, perché il corpo, i sensi devono esistere ancora. C'è uno scrittore che si chiama Arthur Crocker, un libro data trash, che dice che probabilmente con tutte queste realtà telematiche, con la possibilità di viaggiare con la mente, il corpo diventerà carne in eccedenza, diventerà solamente un contenitore vuoto in cui ritornare dopo aver viaggiato su internet o attraverso le reti telematiche. Noi in un certo modo vogliamo invece che il corpo sia ancora nostro, quindi ecco perché recuperiamo il canto delle mondine, il canto blues del dolore, ecco perché parliamo di fossili. In verità il fossile ti dimostra che esiste qualcosa prima di te, il fossile sembra una forma morta, una vita, un'energia imprigionata nella roccia, mentre in verità è ancora qualcosa che ci trasmette qualcosa, che ci dà ancora energia e ci dimostra che comunque si può continuare ad avere dei ricordi, a scoprire dentro se stessi dei ricordi e viaggiare dentro se stessi. Quindi il viaggio deve essere senza barriere, senza confini, assolutamente noi non crediamo negli stati o nei piccoli feudi, perché sta ritornando anche, come dicevo, visto che ritorna il nuovo medioevo, il feudalesimo, la padania, poi un richiamo al feudalesimo. Noi non vogliamo assolutamente questo, perché sempre riconducendomi a Gabriele, lo scontro tra le culture è importantissimo, è quello che ha creato le cose più belle dell'umanità, gli scontro anche tra cose ibride, molto lontane tra di loro. In fine conti il nomadismo ha portato culture, ha assimilato culture, ha fatto nascere delle forme d'arte e di cultura, ma anche perché no, di politica eccezionali, quindi bisogna continuare nel viaggio, che sia fisico-mentale indifferente. Mantenere la memoria storica in questo viaggio impazzito portato verso il futuro. Gli AFA cantano fossili! Quando non sarò più qui, sarò la voce che senti in sogno. Quando non sarò più qui, sarò energia che vibra intorno. Quando non sarò più qui, sarò una traccia sul tuo corpo. Apparirò in altra forza, sarò come neve che non scende, sospeso in atmosfere calve. Vedrò una scia di un metro ritenca d'unca, sarò come un vulcano o un'altra ferita, sarò come lava che sconvolge l'autorità. Cerco nella sabbia i miei reperti, e porta alla luce questi fossili ricordi. Cerco nella sabbia i miei reperti, e porta alla luce questi fossili ricordi. Quando non sarò più qui, sarò inquilino del tuo inconscio. Quando non sarò più qui, sarò sangue che porta nutrimento. Sarò come un'inverno che si arrende, avrà ogni notte un'alba che risplende, sarò rifugio delle tue più dure guerre. avrai parole scritte con le dita, leggi sulla carne questa mappa dita, per sempre avrai una vita. Cerco nella sabbia i miei reperti, e porta alla luce questi fossili ricordi. Cerco nella sabbia i miei reperti, e porta alla luce questi fossili ricordi. e porta alla sabbia i miei reperti, quando sarò via di cui, sarò più in alto delle sacre montagne. quando sarò via di cui, sarò guardiano delle tue intime porte. quando sarò via di cui, sarò via di cui, sarò un Dio che finalmente comprende. quando sarò via di cui, 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 cerco nella sabbia i miei reperti, e porta alla luce questi fossili ricordi. cerco nella sabbia i miei reperti, e porta alla luce questi fossili ricordi. i miei reperti, sono stati nostri rocchi di un terro, cerco nella sabbia i miei reperti, e porta all'arrioma di cui, sarò via 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 state, è un concetto, vero e che fissi, e un concetto a chhsterano. Grazie a tutti. AFA, fossili e gli AFA torneranno dopo, torneranno assieme alle mondine.